Nasce il Colosso del Pomodoro Lombardo e è stata infatti firmata la fusione fra il Consorzio del Casalasco di Rivarolo del Re a Cremona e la Boschi Food & Beverage di Fontanellato di Parma. Il primo è il Regno dell'Oro Rosso, mentre la seconda è specializzata anche nella produzione di zuppe e bevande. Insieme formano un gigante da oltre 200 milioni di euro di fatturato attivo fra le province di Cremona, Mantua, Parma e Piacenza. Con 340 mila tonnellate di pomodoro trasformato e oltre 300 aziende agricole associate che coltivano quasi 4.500 ettari di terreno, spiega la Coldiretti Lombardia, il Consorzio del Casalasco rappresenta uno dei poli del settore a livello nazionale. Fra i suoi prodotti ci sono anche le salse pomì ad alto contenuto di licopene.